Con il vicepresidente Manzi oggi una partita per cuori forti? Sì, oggi una partita per cuori forti, purtroppo preme segnalare che le perdite belle generalmente sono quando non ci si ricorda degli arbitri. Nell'ultimo periodo siamo probabilmente un po' sfortunati, oggi diamo la colpa al caldo, purtroppo che sia per noi o per loro, per entrambe le squadre oggi è stato un fattore. Ovviamente ci dispiace perché tutti facciamo dei grossi sforzi e vorremmo non ricordarci dell'arbitro a fine partita, fare gli applausi all'avversario se vince o essere contenti noi se vinciamo. Quindi comunque complimenti ai ragazzi perché dopo 45 minuti un po' appannati hanno fatto una buona prestazione, ci siamo un po' riaddormentati subendo il pareggio. Poi questo rocambolesco finale da bar sarebbe stato in Serie A, però ci facciamo una risata e oggi è il sorriso per noi. Sì, l'impressione non abbiamo capito, nella concitazione se la palla avesse superato o meno la linea di porta del Follonica-Gavorrano, poi questo ribaltamento di fronte e questa uscita sciagurata del portiere civitonico che ha regalato il calcio di rigore al Follonica-Gavorrano. Il ruolo del guardaline con la quale Pocci se la prende sempre è un ruolo molto difficile, specialmente su una mischia in mezzo all'area di rigore, con una partita un po' tesa. Mi metto nei panni della Flaminia che da reclamare per un gol si è trovata a subire un rigore, oggi penso sia una domenica dura, però ripeto è stato un problema sia da una parte che dall'altra, un fattore diciamo più che un problema, quindi fortunatamente oggi sorridiamo noi. Ora in vista di mercoledì è importante tirare il fiato e soprattutto farci trovare pronti per questo recupero che speriamo si possa giocare? Penso sicuramente di sì, chiaramente noi siamo un po' credo la condizione fisica, abbiamo un po' bisogno di giocare le partite, perché comunque cinque giorni di stop per il Covid, Tomassini che è stato recuperato, avete visto il rientrato, Tascini che ha iniziato a giocare, abbiamo delle alternative, riteniamo da poter affrontare questo slot di partite senza troppi problemi, chiaramente ora inizia a esserci anche un fattore che è il caldo e bisognerà ruotare tutti bene, avere tutti la pazienza di aspettare il proprio momento e farsi trovare pronti in quel momento. Grazie mille. Una cosa se mi permettete, ci tenevo, perché non c'è stata occasione prima, visto che risultate, a fare complimenti al Grosseto, perché se chiediamo e vogliamo una crescita della provincia del Grosseto ci vogliono tante gestioni tipo Grosseto, ognuno in base alle proprie possibilità, attente, serie, che portano risultati e che valorizzano il territorio, perché finché c'è il Grosseto e ci siamo noi soli a questo livello non possiamo pretendere ci sia una crescita. Faccio complimenti a loro e spero che per tutte le altre società sia un modello, una gestione da seguire, perché se portiamo tutti in su la provincia ci divertiamo tutti. Io ti ringrazio per il messaggio che ti garantisco è apprezzato e sarà apprezzato anche della tifoseria unionista e approfitto invece per farti pubblicamente i complimenti, gli auguri, le congratulazioni a te e a tua moglie per la nascita della, come si chiama, la figlia? Vittoria, oggi ci sta bene, quindi diciamo è proprio adatta. Quindi benvenuta Vittoria e forza Maremma, si può dire. Sì, sì, grazie. Ripeto, complimenti a Simone e Mario Ceri perché questo tipo di gestione, come dire, ognuno in base alle proprie idee, alle proprie scelte, ci accomuna molto attenti, oculate e in base alle proprie possibilità, se ognuno facesse questo, credo che la provincia presto potrebbe divertirsi come fanno altre province a livelli un po' più alti. Grazie ancora.